Siamo venuti a trovare Roberto Montà che è il sindaco di Grugliasco ed è anche il presidente dell'associazione Avviso Pubblico. Siamo venuti qui per parlare di un'iniziativa molto interessante che si chiama Illuminiamo la Salute. È un'importante iniziativa promossa da Libera, il gruppo Abele, Avviso Pubblico e il Corripe Piemonte. Prima di parlare di Illuminiamo la Salute, ci spiega cos'è Avviso Pubblico, quando è nata, perché è nata e chi si può associare? Allora, l'Aviso Pubblico è un'associazione di comuni, province, regioni, parchi, di enti e istituzioni pubbliche che è nata nel 1996 ed è nata sul presupposto che in una fase in cui le mafie sviluppavano la loro aggressione più violenta nei confronti delle istituzioni e mentre la società civile si stava organizzando, nasceva Libera, nasceva la legge 109 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati con la raccolta di un milione di firme, un po' di amministratori hanno iniziato a capire se c'era uno spazio per cui anche loro potessero svolgere un ruolo accanto ai cittadini della società civile, alle forze dell'ordine e la magistratura. Lì nasce Avviso Pubblico e nasce con l'obiettivo di far sì che gli enti locali e le istituzioni testimonino in qualche modo la legalità sia attraverso la gestione dei propri servizi e delle proprie attività, sia provando a organizzarla sul territorio, cioè ponendo questo come un paradigma intorno a cui far crescere la comunità. Da allora sono quasi passati 20 anni, l'associazione conta oggi circa 260 enti soci e fra questi 260 enti soci ci sono anche comuni molto piccoli, ma in realtà ci sono capoluoghi di regione, c'è Torino, c'è Milano, c'è Roma, c'è Firenze, Bologna, ci sono regioni importanti come Puglia, come Lombardia, come Toscana e come Emilia Romagna, quindi un panorama molto variegato di enti che continuano ad impegnarsi concretamente, lavorando sia su un piano territoriale, con un'organizzazione che vede nei livelli regionali il punto di forza dell'associazione, sia su vari temi, tra cui uno è quello della salute. Qualsiasi ente si può iscrivere all'associazione, che sono una circoscrizione grossa? Circoscrizioni sono tutte le istituzioni pubbliche, sul sito www.avvisopubblico.it che è anche una miniera di informazione, ci tengo a citarlo, è anche una newsletter molto apprezzata, ci sono tutti i soggetti che possono iscriverci, abbiamo un ente parco, l'idea è che tutte le articolazioni dello Stato che ritengono di poterlo fare possono iscriversi. Quando è nata l'iniziativa Illuminiamo la Salute? E quali finalità ha? Sì, siamo nel 2013, è nata anche da una riflessione che noi come avviso pubblico abbiamo provato a fare, sapendo che il tema della sanità e della salute ha un ruolo in quella che sono le politiche che uno Stato e le sue istituzioni mettono in campo assolutamente strategico. Il dossier mette in evidenza quelli che sono gli elementi centrali della qualità della vita, della mortalità, della spesa. Il tema della spesa è una spesa rilevantissima, oltre l'80% del budget delle regioni se ne va in spesa sanitaria, è quindi evidente che c'è bisogno di un presidio, sapendo che noi siamo un Paese che da un punto di vista del fenomeno della corruzione occupa una posizione che è al penultimo posto in Europa, nelle gradatorie di transparency, quindi negli indici di percezione del fenomeno, un Paese che compete con non le principali realtà a livello mondiale. Noi siamo nel G8, ma in realtà siamo al settantesimo, ottantesimo posto nelle graduatorie della trasparenza e concorriamo con Paesi tipo il Botswana, cioè con realtà assolutamente lontani da un punto di vista economico e dell'organizzazione dei servizi. Che, dati il raccordo dei conti, cede 60 miliardi di Euro all'anno a questo fenomeno, è evidente che noi non possiamo non occuparci di un fronte di spesa pubblica così significativo e che ha, tutta la spesa pubblica ha un suo significato, ma che ha ripercussioni drammatiche sulla vita delle persone, perché un conto è la corruzione in una strada, in un acquisto di sedi e computer, un conto è la corruzione invece in acquisti di beni e servizi e nell'organizzazione dell'attività connesse alla salute. Magari un farmaco che non dovrebbe essere comprato e che passa la corruzione. Esatto, quindi questa è un po' l'esigenza, allora l'idea di provare a porre questo come un elemento centrale di attenzione da parte di tutti e l'abbiamo fatto insieme a Libera Gruppo Bella Alcoripe e poi di provare a innescare una campagna che ha come obiettivo quello di innanzitutto portare il tema della trasparenza all'interno della sanità, il modello delle aziende sanitarie, purtroppo basta reggere le cronache, quando i cittadini non capiscono perché alcuni beni e servizi hanno costi così assolutamente difformi, non si capisce le dinamiche negli affidamenti privati, non si capisce il perché il sistema pubblico in tali casi non riesce a produrre il massimo dell'efficienza, il tema dei costi e lì c'è uno spazio e c'è una zona grigia su cui ogni tanto le inchieste fanno emergere in maniera drammatica elementi di preoccupazione. Noi abbiamo un gruppo di lavoro come associazione, sapendo che mentre è centrale per le regioni, per i sistemi agli enti locali e le competenze sanitarie sono tutto sommato limitate, ma il sindaco è la massima autorità sanitaria. In caso di gravi incidenti li tocca a lei. Quindi noi ci portiamo comunque in via diretta e indiretta la responsabilità della salute dei cittadini, allora in questo senso noi abbiamo attivato e da quest'autunno inizieremo un lavoro un pochino più serrato, io sono diventato Presidente a dicembre su questo tema. La campagna Illuminiamo la salute vuole provare ad affrontare, così come si sta facendo negli enti locali, il fenomeno della corruzione, il tema della trasparenza, della comparazione e anche della rendicontazione di quelle che sono le spese dei processi di acquisto e dei processi di gestione del budget della sanità, deve diventare chiaro e trasparente al pari di quelli che sono i processi e i comportamenti che vengono adottati negli enti locali. La legge 190 in questo ci ha chiesto di fare molte cose, ma io credo che sia importante che complessivamente tutti gli operatori del sistema sanitario e i dirigenti si rendano conto di come in realtà e lì emerge un dato che 1,6 miliardi di Euro buttato solo come danno erariale frutto della corruzione, se noi pensiamo che i tagli al patto per la salute sono di 500-700 milioni di Euro, pensiamo a quanto sacrifichiamo in termini di servizi in virtù di questi cattivi comportamenti. Allora ci vuole un'alleanza degli enti locali, delle regioni, di tutte le istituzioni che stanno in avviso pubblico per provare a sviluppare buone pratiche, ma anche a far capire ai cittadini che tutti insieme siamo corresponsabili di questa gestione. Ho visto che tra i vari aderenti c'è anche l'Agenas, che per chi non lo sapesse è l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che collaborazione avrete con l'Agenas? Io credo che tutti i soggetti che in qualche modo hanno la responsabilità a livello nazionale di vigilare sui comportamenti devono essere con noi proattivi ed impegnati nel costruire dei percorsi seri, io credo che il tema del contrasto alla corruzione debba essere affrontato con strumenti chiari e non con un slogan, noi non abbiamo bisogno di continuare a dire che ci impegniamo su questi temi, abbiamo bisogno di mettere in campo delle buone pratiche che ci sono, ci sono su più fronti, ci sono anche in ambito sanitario per far sì che quello che è un ente che monitora, controlla e che quindi ha un po' di benchmarking provi a riportare a sistema e allora noi con le regioni che sono nostre socie cercheremo di fare iniziativa affinché le migliori buone pratiche vengano portate all'attenzione e poi io credo che i sindaci siano ottimi alleati perché comunque esprimiamo un ruolo negli atti di indirizzo aziendali, facciamo parte della conferenza e abbiamo comunque un ruolo anche se i modelli sanitari talvolta hanno elementi di formi lievemente da regione a regione, ma comunque possiamo esercitarlo ed è importante che questo tema venga portato all'attenzione di chi ha la gestione diretta che sono tecnici della sanità. Chi può aderire a questo progetto? Anche il cittadino comune o solo enti e associazioni? C'è la campagna, alla campagna oramai noi abbiamo innescato così come è stato per la campagna e che hanno provato a cambiare anche un po' quelli che sono i comportamenti, insomma con Riparte il Futuro abbiamo raccolto oltre 500 mila adesioni e abbiamo insieme a Libera prodotto un effetto, non noi, ma l'ha prodotto il rinnovamento della politica che non abbiamo più un Parlamento con 90 e passa soggetti indagati o condannati per fatti specie che rientrano all'interno del codice antimafia e quindi noi abbiamo bisogno che i cittadini siano corresponsabili, noi viviamo in un Paese in cui la gestione pubblica è secondo me l'epifania di un tentativo di fuga dalla legalità di cui siamo tutti responsabili. Allora io credo che migliaia di cittadini che sostengono questo impegno, che si riconoscono in questi documenti, che vogliono in qualche modo impegnarsi anche solo nel farlo, nel testimoniarlo, danno forza all'altra Italia che deve diventare maggioranza, che deve far sì che attraverso comportamenti diversi nel contrasto alla corruzione e all'illegalità vede una via di sviluppo, sono 300 miliardi di Euro il ticket dell'illegalità che il nostro Paese tutti gli anni paga, sono 5500 Euro a cittadino, se ciascuno di noi avesse 5500 Euro in più, poi potremmo discutere come spenderli, se darli nelle tasche dei cittadini o se spenderli in servizio, queste sono ricette di politiche economiche diverse, ma intanto io credo che l'obiettivo di tutti i cittadini sia andare a recuperarli e una parte di corresponsabilità in tali casi molto grande è anche di ciascuno di noi, quindi proviamo anche a lavorare sulla cultura e sui cambiamenti nei comportamenti. Quali sono le prossime iniziative di Illuminiamo la Salute? Noi adesso abbiamo appunto questo tavolo, cercheremo dopo la pausa estiva, ci sarà un momento molto importante a ottobre che sarà contro mafie, che è un po' il forum dove libera, viso pubblico, danno in qualche modo la rappresentazione di tutto il movimento antimafia, del movimento che promuove la legalità sul nostro territorio e nel nostro paese e quindi anche in quel momento inizieremo a parlare di questi temi, poi è un gruppo di lavoro, è un protocollo strutturato per cui continueremo di volta in volta a produrre delle iniziative di sensibilizzazione. Il sito è illuminiamolasalute.com. Esatto, e poi ci sono i rilanci sui siti di libera e di avviso pubblico. Vorrei chiudere con una domanda al Sindaco ma anche al Presidente di avviso pubblico, quanto incide negativamente sui comuni piccoli e sui comuni medio piccoli come può essere questo, che voi avete 40 mila abitanti più o meno, la corruzione e cosa può fare un Sindaco per combatterla in modo molto pratico e immediato? Allora, quanto incide è difficile dirlo, abbiamo dei macrodati, è evidente che talvolta la qualità di alcuni servizi, di alcune opere, di beni pubblici sono frutto di comportamenti che hanno visto nella corruzione un elemento molto prepotente. Il tema della corruzione nel sistema di enti locali va visto su due piani. Il primo tema è che la corruzione è la chiave per infiltrazione e per costruire relazioni tra criminalità organizzata e politica, intorno al tema del consenso. La corruzione è uno strumento fortissimo che non è più solo d'azione di denaro, ma è costruzione anche di relazioni e di influenze. Questa cosa è molto pervasiva e sta salendo sempre di più dal sud verso il nord e abbiamo fenomeni che le recenti inchieste ci rendono evidenti in tutto il centro nord. Bisogna fare attenzione perché si rischia di creare con questo strumento e con una scarsa attenzione condizioni per cui il territorio viene fisicamente occupato dalle organizzazioni criminali che soprattutto laddove non c'è l'arme sociale fanno buon gioco e fanno buoni affari intorno alla politica. Poi invece c'è proprio un fenomeno di gestione della cosa pubblica su cui credo che noi dobbiamo lavorare al massimo con gli strumenti che abbiamo a disposizione. È evidente che in tutto ciò che riguarda il ciclo dell'appalto pubblico, fermo restando il tema delle nuove società di committenza che sposteranno molti appalti a un livello superiore in delle centrali che auspicabilmente dovrebbero essere meglio controllate, però noi oramai vediamo cattivi costumi di chi in qualche modo operando sotto soglia crea condizioni di un mercato di fatto chiuso in cui questi meccanismi di affidamento e di gestione poi dell'appalto sono spazi in cui la corruzione si può ben infilare. Io credo, ho fatto recentemente un nuovo regolamento sugli appalti, meccanismi di rotazione, la procedura di comparazione si fanno sempre, non si ricorda gli affidamenti diretti se non per cause di necessità e di emergenza. Si dà anche attraverso questi piccoli segnali l'idea che sostanzialmente si opera in un mercato aperto in cui la concorrenza e la competizione mette in gioco tutti. Io credo che questo è la percezione da parte di tutte le strutture pubbliche che la corruzione rappresenta un costo per la collettività e un disservizio di cui in qualche modo ne siamo tutti vittima, anche chi in qualche modo qui lavora credo che siano gli elementi. Poi ce ne sono tanti altri strumenti, c'è il pericolo delle politiche urbanistiche, che per loro natura, mentre sull'appalto abbiamo degli strumenti, l'urbanistica è per sua definizione ormai concertazione, il mondo cambia in continuazione, quindi non si può più immaginare una pianificazione di regista in cui io dico che è così e così sarà e allora io credo che lì il lavoro che si deve fare è da una parte di monitorare per contrastare le infiltrazioni, i flussi finanziari e le modalità di gestione delle opere privatistiche, per capire chi opera, chi lavora sul territorio e quindi per andare a scoprire che in realtà non ci siano delle infiltrazioni pesanti nel tessuto economico. Dall'altra parte bisogna che i processi di attribuzioni di vantaggi, benefici economici, diritti edificatori o trasformazioni debbano essere in qualche modo tracciati, tracciabili resi trasparenti, per cui tutti i cittadini devono essere informati per un controllo diffuso e dall'altra parte devono avere una loro sostenibilità economica e deve essere dimostrato sempre in maniera evidente l'interesse pubblico prevalente, lì è più complicato, ma io credo, io ho fatto un documento di indirizzo di revisione del piano regolatore, che non è un atto obbligatorio della norma, è una scelta di provare un'amministrazione che si insedia dopo un anno, fa un documento, fa una valutazione. Questo documento è stato tradotto in una pubblicazione che abbiamo mandato tutti i cittadini, abbiamo aperto per tre mesi la possibilità di fare delle osservazioni, sono arrivata una quarantina, poche di cittadini, molte di operatori, di professionisti, però tutti i cittadini hanno capito dove va il territorio e vedranno alla fine quali sono le scelte che noi facciamo. Io credo che così come nei principi della 190 la conoscenza e la trasparenza paga e crea un controllo diffuso oltre che una cultura di legalità, io credo che anche sulle politiche di gestione del territorio si debba fare in questo modo e io devo dire che abbiamo chiuso l'altra sera in Consiglio Comunale quest'iter e quindi i documenti e gli atti urbanistici saranno degli atti che in qualche modo proveranno a rispondere a quel disegno di cui tutti i cittadini sono stati informati e quindi dovranno solo poi misurare la nostra coerenza e la nostra capacità di tradurre quel disegno in atti amministrativi coerenti e dove emerga ancora in maniera più chiaro l'interesse pubblico prevalente. Ringrazio molto. Grazie a voi. Grazie a voi.